Questo è il nuovo GALILEO CKE2500 Tissue Array. È una macchina molto piccola, semiautomatica, con sei blocchi standard, con un pannello di scuola, con una scuola di scuola, con una scuola di scuola e una macchina molto piccola. Il movimento delle scuola è completamente automatico e abbiamo un set completo di scuola, da 0.6, 1, 1.5, 2, 3 e 5. Abbiamo un joystick di scuola di scuola che viene da tre spiegazioni diversi, rotto, progetto, più velo e più veloce. Stratto dall'immagine, possiamo eliminare 5 differenti TEMPLATES A B C D E E. We say so how many rows, how many columns we want, the dimension of the needle and the spacing between the hole. After we have to say to the machine where is the donor block and where is the recipient block. Touching we say where is the recipient block and where is the donor block. We start the work, the needles are manually pushing needles and we use it for taking the tissue from the paraffin. And this is our finished work.